Io spero che in questo momento i miei giocatori pensano a dare il massimo a fare quello che hanno, anzi, ma anche un qualcosa in più. Bisogna andare alla ricerca di questo e non preoccuparsi perché è giusto che con tutto quello che avete detto, abbiamo perso la Supercoppa, siamo usciti da Coppa Italia in semifinale, veniamo da un periodo. E penso che il primo responsabile giusto che sia io e mi assumo tutte le responsabilità. Però voglio vedere una squadra che è un po' più tranquilla, una squadra che deve pensare a dare il massimo.